Perchè non canti una canzone per distrarti? D'accordo! Su e giù, su e giù, il treno fa ciup ciup! Viaggia e va in paesi e città, mai si fermerà! Io l'ho cantata la canzone, dovremmo essere quasi arrivati! Oh no, dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa! Pensa, arriveremo a destinazione soltanto domani mattina! Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa! Ma questa non è una camera da letto, papino! Guardate un po' qua! Dei letti magici! E qui è dove ci laveremo i denti! Evviva, c'è un bagno magico! E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti! E non è ancora tutto! Una tazza magica, bella! Mi domando a che serva questo pulsante! Impossante! Papino ha riuscito a trovare la doccia magica! Desidera? Passaporti, prego! Oh, certo! Oh, così lei è signor Pig! Quel signor Pig! È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo! Ehm, esatto! Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese! Ma chiedo scusa, la sto disturbando! Buonanotte! Buonanotte! È ora di dormire! Buonanotte, Peppa e George! Notte, notte, tesorini miei! Notte, notte! Peppa e George dormono al caldo nelle loro cucette sul treno! Su e giù, su e giù, il treno fa ciuf ciuf! Viaggia e va in paesi e città, pa 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 pa! Tutu! È mattina! È il momento di fare colazione sul treno! Bene alzati! Signorina Coniglio, lei non dovrebbe essere alla guida del treno? Sì, figuri! Il treno viaggia sui binari, non possiamo perderci! Preferisce del caffè oppure del succo d'arancia? Li vorrei entrambi, per favore! No! O il caffè o il succo d'arancia, non può averli tutti e due! Come fa a lavorare nel mare? Con questo, sottomarino! Volete fare un giro? Certo! Magari! D'accordo! Tutti a bordo! Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcoboleno! Quello si chiama corallo! Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri! La chiamiamo la grande barriera corallina! Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo! Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa! Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo! Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo! Presto tutto il corallo scomparirebbe! Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare! Ah! Guardate! Che bei pesciolini! Sono pesci pagliaccio! Pesci pagliaccio? Beh, è vero! Fanno ridere! Guardate laggiù! Una grande stella marina blu! E lì ce n'è una piccola rossa! E una verde con tante punte! Quello cos'è? Quella è una tartaruga! Buongiorno, signora tartaruga! Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate! Lì c'è un arco! Proprio come nel vostro acquario! Oh oh! Hai ragione, Peppa! Qui è quasi come essere in un acquario! Manca solamente il forziere col tesoro! Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro! Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro! Hai visto, papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario! La nostra casa non è ancora finita! Ti presento il mio papà che la sta costruendo! Ecco il signor Talpa! È molto bravo a scavare! Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda! Lei è la mia nuova amica, Peppa! Buongiorno, signor Talpa! Piacere di conoscerti, Peppa! Papà Pig è venuto a prendere Peppa! Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì! Si sono trasferiti proprio sotto di noi! Come sarebbe sotto di voi! Sì! È davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig! Prego, si accomodi! Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento! Lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti! Fatemi sapere se avete bisogno di consigli! È gentile da parte sua, ma... Già, perché servono professionisti per costruire una casa! Degli idraulici, elettricisti, architetti! A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli! Buongiorno, signor Pig! Buongiorno, signor Talpa! Posticino interessante avete messo su? La ringrazio! C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego! Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole! Si può fare una porta qui! Oppure una porta qui? Se ne può perfino fare una quassù! Eh, lieto di vederla, signor Coniglio! Oh, buongiorno! Salve, signor Talpa! Spero che non vi dispiaccia se ho costruito un passaggio nel vostro pavimento! Un passaggio nel pavimento? Mi sembra un'ottima idea! Gradisce una tazza di tè! Con chi stai parlando, papà Talpa? Stavo parlando con il signor Coniglio, cara! Salve, signora Talpa! Oh, ma che piacere, signor Coniglio! Questa è l'area giochi, dove ci sono soltanto oggetti morbidi. Così i piccoli possono saltare, dondolarsi, intrupolarsi, scivolare e giocare! È fantastico! I piccoli si stanno divertendo così tanto! Già, speriamo di riuscire a portarli via dopo! I piccoli hanno giocato tutto il giorno! Forza, è ora di tornare a casa! È stata una bellissima festa, non è vero? Sì! E vi siete divertiti? Sì! E ora siete pronti per tornare a casa? No! Povere noi! Non riusciremo mai a farli uscire! C'è soltanto un modo per farlo! Devo entrare anch'io! Auguri! Sono incastrata! Aiuto! Non si preoccupi! Sto arrivando! Ci sono quasi! No! Sono bloccata anch'io! Aiuto! Salve! Il signore elefante è venuto a prendere Edmond. Signore elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Ma quanto siete carini, tesorucci! Dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me! Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me! Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato! Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole! Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio! Come adulto, spetta a me sacrificarmi! Ma papino! Sta tranquilla, Peppa! Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi! Ah! Uff! Sì, sono incastrato! Oggi parleremo di quale mestiere vi piacerebbe fare una volta che sarete diventati grandi! Potete usare la cesta dei travestimenti per aiutarvi nella scelta! Madame Gazella, io non lo so che cosa voglio fare quando sarò grande! Non preoccuparti, Peppa! Hai ancora tanto tempo per pensarci! Va bene! Quando sarò grande, io voglio essere la regina! Così posso dire alle persone cosa devono fare! Molto brava! A me credo che piacerebbe fare la maestra! E dimmi, qual è la cosa che ti piace di più del mestiere di maestra, Emily? Dire alle persone cosa devono fare! Ah, ho capito! Io invece voglio fare il poliziotto quando sarò grande! La polizia guida le macchine e accende sirene e lampeggianti! Nina, 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 Nina! Ora basta! Grazie! Che cos'altro ti piace del mestiere di poliziotto, Freddy? Dire alle persone cosa devono fare! Certo! Io vorrei fare la dottoressa oppure l'infermiera! Perché ti piacerebbe fare l'infermiera, Susy? Perché loro aiutano le persone malate a stare meglio! Meraviglioso! E poi dicono alle persone cosa devono fare! Certo! Ma non è che in tutti i lavori si dice agli altri cosa devono fare! Oh! Esistono molti altri lavori importanti, come fare il costruttore oppure il poeta! Quando sarò grande io voglio essere un pirata! Arr, arr! I pirati cantano canzoni e poi fanno yo-ho-ho! Già, ma non sono certa che fare il pirata sia un lavoro, sinceramente! O faccio il pirata o il contadino! Oh, bravo! Fare il contadino è molto meglio! Fai crescere frutta e verdure e produci il cibo che noi tutti mangiamo! E dico a tutti gli animali che cosa devono fare! Certo! Io da grande voglio fare il supereroe! Fare il supereroe è un lavoro molto importante! Devi correre più veloce di un treno! Saltare su palazzi altissimi! No, io non voglio farle tutte queste cose così faticose da supereroe! Però voglio dire alle persone che cosa devono fare! Giorgio ha trovato una palla! Fa più attenzione, Giorgio! Hai colpito la mia serra! È tutta fatta di vetro! È delicata, si rompe facilmente! È meglio allontanare la palla dai posti a rischio! Oh! Chi ha lanciato un pallone contro la mia serra? La gente che vive nelle case di vetro non dovrebbe mai e poi mai lanciare palloni! L'hai lanciato tu per primo! Hai quasi mandato in frantumi la mia serra! E quella la chiami una serra? È solamente un ammasso di vecchie finestre arrugidite! È perfetta per far crescere i miei pomodori! Mi stupisce che tu riesca a coltivare qualcosa in quella di scarica! Da me cresce più roba che in quella tua lussuosa scatola di vetro! Nonno cane e nonno pig sono amici per la pelle! Nonno pig! Perché hai costruito la serra in vetro se il vetro si rompe facilmente? Perché dentro coltivo le piante! Adesso vi faccio vedere! A queste piante piace la luce del sole e i vetri la lasciano filtrare! Oh! Questa pianta ha un profumo buonissimo! Quello è soltanto basilico! Nonna pig ha messo un po' di semi nel vaso e così la pianta è cresciuta! Oh! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata! Una pianta di pomodori! Ma mi sembrano piccolissimi nonno! Tieni Peppa! Assaggiane uno e dimmi che sapore ha! Provalo! Vediamo! Ha il sapore... di niente! A dire il vero non sono ancora del tutto maturi! Buongiorno nipotini miei! Ciao nonna pig! Per favore potrei avere qualche pomodoro? No! Temo che i pomodori non siano ancora maturi! Forse aspettando qualche settimana... Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo! Anche nonno cane coltiva i pomodori nonnina! Già! Può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno! Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti! Ah! Può far manco! La barca di nonno pig è arenata sulla sabbia! Ma non c'è acqua da nessuna parte nonno! Ehm... È vero! Evidentemente c'è bassa marea! Allora non si può andare in barca! Non ti preoccupare! L'acqua tornerà da un momento all'altro! E così la nostra barca potrà galleggiare! Ecco! L'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia! Stiamo ballonzolando su e giù! Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, capitano nonno! Ai posti di manovra! Io adoro andare in barca a vela! Ehi là! Vento in poppa, nonno pig! Va tutto bene a bordo! Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente! Grazie! Arrivederci! Guarda, nonno! Loro vanno più veloci di noi! Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela! Stiamo ballonzolando su e giù! La barca va su, la barca va giù! La barca va su, la barca va giù! Adesso sta tornando a le e poi riscende giù! La barca va su e giù! Ehi là, vento in poppa, nonno pig! È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea! Se fa tardi, rischio di rimanere arenato sulla sabbia! Grazie del consiglio! Ci vediamo! A dopo! Non ho intenzione di dargli ascolto! Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro! La barca va su, la barca va giù! La barca va su, la barca va giù! Adesso sale, sale! Oh, abbiamo smesso di ballonzolare! Oh, evidentemente è arrivata la bassa marea! Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già! Ma solo finché non torna l'alta marea! Quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo! E quando torna l'alta marea? Ehm, beh, domani mattina! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party! Evviva! Cosa vuol dire? Guarda, questo elefante sembra un po' triste ma ha solamente bisogno di più imbottitura! A Teddy piace essere floscio, grazie allo stesso, signorina coniglio! Il signor dinosauro gradisce dell'imbottitura? Come non detto! A Teddy piacerebbe un nuovo abito? Ho una deliziosa divisa da marinaio! Ma Teddy ha una femmina! Anche le femmine possono fare i marinai! Sì! Ma Teddy non ha voglia di fare il marinaio! Che ne dici di un pilota? No! E di un palombaro? No! Allora una principessa! Credo che Teddy non voglia mettere nessun vestito, grazie allo stesso, signorina coniglio! E il signor dinosauro invece? No! Capisco! Che ne pensi di occhi nuovi? Sapete come si dice? Gli occhi sono lo specchio dell'anima! Che cos'è l'anima? Eh... È un tantino complicato! Guardate questi occhi! Abbiamo occhi verdi, occhi azzurri o questi occhietti che si muovono! La storia dell'anima non so se può funzionare bene con quegli occhi! A Teddy non serve cambiare gli occhi, grazie allo stesso, signorina coniglio! E il signor dinosauro? Magari vorrebbe degli occhi... Bene! Un'altra cosa che posso offrirti, Teddy, è una nuova voce! Le voci provengono da queste scatolette che si inseriscono nel pupazzo! Ciao! Ti voglio bene! Ma Teddy non parla affatto in questo modo! Sono tanto felice! Voglio giocare! Questo non è Teddy! Tu sei la mia migliore amica! Ma questa è la voce di Pinguino! Tu sei la mia migliore amica! Signor dinosauro gradisce una nuova voce? Che domanda sciocca ho fatto! C'è un'ultima cosa che posso fare per te, Teddy, ed è darti una bella lavata! No, Teddy non vuole darsi una bella lavata! Ecco qua! Io ho finito e ho una buona notizia! Teddy e il signor dinosauro sono entrambi in perfetta salute! È meraviglioso, grazie! Paga in contanti o con carta di credito! Teddy, io ti voglio bene così come sei e ti ne vorrò per tutta la vita! I dottori ora raccomandano di mangiarne sette porzioni al giorno! Sette volte al di tu la devi mangiare! Va bene così? Certo! Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi! Troppo buoni, troppo buoni! E ricordate ragazzi, mangiate frutta e verdura! Super Patato hai volato via dalla nostra scuola! Oh, peccato! Me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico! Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io! Arrivederci! Andiamo piccolini! Tu ti vuoi salutare il signor Patato? Oh no! La macchina del signor Patato non parte! Non riesco più a uscire! Il signor Patato è bloccato! Aiuto! Voglio uscire! Che cosa possiamo fare? Aiutatemi! Dobbiamo chiamare Super Patato! Fatemi uscire! Super Patato! Super Patato! Vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona! Forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aureoplano! No! Quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure sono qui per voi! Benito! Super Patato è arrivato in soccorso! Grazie alla mia super vista vegetale mi sono accorto che il mio caro amico Patato è in difficoltà! Sì! Tiralo fuori dalla sua macchina! Utilizzerò tutta la forza della frutta per sollevare questo tettuccio! Ta-da! Super Patato ha salvato il signor Patato! Evviva! E ricordate ragazzi, quando c'è un problema... Mangiate sempre frutta e verdura! Frutta e verdura non è da scordare! Cinque volte al dì tu la devi mangiar! Chiaro? No, sette! Sette volte al dì tu la devi mangiar! Perfetto! Forza venite, esultate in pimpurra! Il signor Patato è arrivato in città! Oh no! Il palloncino sta volando via! Oh! Il mio palloncino! È tutto a posto! L'ho ripreso! Evviva! Oh! Mi sta portando via con sé! Aiutatemi! Bisogna chiamare subito il servizio di soccorso! Pronto? Signorina coniglia dell'eli soccorso! Il signor Patato vola via col palloncino! Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente! Un momento! Non posso fare un salvataggio vestita così? Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! 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 Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina perché sono molto brava a comandare! Anche io so comandare! Dovrei essere io la regina perché sono la più brava a fare il saluto! Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene! Io metto in testa la corona! E io mi siedo sul trono! Io invece indasso il mantello! Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato! Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah! Faccio attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte! La raggiungo da sopra! Signorina Coniglio! Mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito! Buona giornata! Ora il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccio scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole! Allora allenterò il nodo! La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino! No! Ferma! Ferma! Fatto! No! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato! La ringrazio! Evviva! Oh, buongiorno! È il fratello del signor Toro! Buongiorno! Chiedo scusa per il rumore, ma stiamo costruendo una nuova strada e per questo motivo dobbiamo buttare giù questo edificio! Il rifugio per animali malati è proprio dove passerà la nuova strada! Buona giornata a tutti! Il signor Coniglio è l'ispettore addetto al controllo delle strade! I lavori vanno un po' a rilento, signor Toro! Posso sapere perché siete fermi? Quest'edificio ostacola la nuova strada! Io gli ho detto di costruire una galleria! Sì, una galleria è perfetta! Giusto, però sarà molto difficile da scavare! Le vostre macchine non sono forse abbastanza potenti da costruire una galleria? Che cosa? Le nostre macchine sono attrezzatissime! Sono le più potenti del mondo! E possiamo scavare una galleria! Io inizio a scavare da questa parte! Io scaverò da quest'altra parte! E poi ci incontreremo nel mezzo! Evviva! Il signor Toro e suo fratello scavano una galleria sotto la collina! Occolt! La galleria è terminata! Come anche la nuova strada! Evviva! Le mie congratulazioni, signor Toro! Avete fatto davvero un ottimo lavoro! Già! Così da oggi in poi chi va di fretta potrà andare dove deve andare molto più velocemente! La nuova strada è talmente bella e dritta che tantissime macchine hanno cominciato a usarla! Non mi pare che vadano tanto velocemente! Questa strada viene utilizzata da più veicoli di quanto avevamo previsto! Allora abbiamo bisogno di una strada più grande! Perciò che cosa farete, signor Toro? Beh, ora c'è un'unica cosa che possiamo fare, Peppa! Ed è scavare per costruirla! Peppa e George adorano vedere scavare il signor Toro e suo fratello! Tutti adorano vedere scavare il signor Toro e suo fratello! Vi presento il primo aeroplanino interamente costruito da me! Aeroplanino! George adora gli aeroplani! E sai anche farlo volare, nonnino! Ma è ovvio! Osservate! L'atterraggio è la parte più difficile! Il tuo è l'aeroplanino più bello che abbia mai visto, nonno Pig! Ma potrebbe funzionare meglio se fosse un po' più grande! Perciò ne ho costruito un altro! Modellino 2! Bello! Ora scendiamo piano! Così! Come ho già detto, l'atterraggio è la parte più difficile! E bravo, nonno! È bello che tu esprima così la tua creatività! E ora che hai costruito questo grande aeroplano giocattolo, non serve che tu ne costruisca altri, esatto? Esatto, nonna Pig! La sai una cosa? Io gradirei un bel bicchiere di succo d'arancia! È un'ottima idea, nonno Pig! C'è qualcun altro che ha sete? Io ne ho molta! Vado in casa a prendere del succo d'arancia per tutti! Ci vediamo tra poco! Peppa, prenditi cura della bambola! Sta tranquilla, nonnino! Ciao, ciao, nonna! Bene, adesso posso mostrarvi il progetto a cui sto lavorando! Questo è... Modellino 3! Bello! Eh sì, l'ho perfezionato ed è anche più grande! Guardate, c'è perfino il seggiolino dove può sedersi il pilota! A me è venuta un'idea! Ci mettiamo giorgi! È meglio di no! Credo che potrebbe essere un po' troppo pericoloso! Oh! Ma forse alla bambola piacerebbe fare il pilota! Però la nonna ha detto che bisogna trattarla con cura! La bambola starà benissimo alla guida! D'accordo, nonnino! Ci serve un vestito nuovo per George, per favore! Siete molto fortunati perché qui vendiamo vestiti! Per cominciare dobbiamo prendere le misure! Forza, alza le braccia, caro George! George crede che lei gli voglia fare il solletico! Ti prometto che non ti farò il solletico, George! Molto bravo! Ma che bambino grande e coraggioso sei! Allora, hai visto, George? La signorina coniglio non ti ha fatto il solletico, è vero? No! Ma io sì, invece! A George piace il solletico! Bene, troviamo un bel vestito nuovo per George! Che ne dici di questo? Ti terrà molto caldo, vedrai! Bello! Prego, mamma Pig, entra in camerino con George, si accomodi! George ha indossato un pesante maglione di lana! Così assomiglia a un pelusso, George! Credo che il bianco non sia il colore adatto per saltare nelle pozzanghere! Ah, provi questo! È di tutti i colori tranne che bianco! George, vestito così sembri un pagliaccio! George non vuole sembrare un pagliaccio! No, troppo colorato! Che ne dice di questo? Adesso invece assomiglia a un buffo pinguino! Già, direi che questo non lo fa sembrare George! Allora può provare questo! È praticamente identico a quello che aveva prima! Oh, ci siamo! George, così sei spiccicato a te! Tu che cosa ne dici, George? Evviva! A George piace il vestito nuovo! Papino, siamo tornati! Oh, vedo che George non ha comprato nessun vestito nuovo! Questo è un vestito nuovo, Papà Pig! È uguale spiccicato a quello di prima, ma senza buchi! Oh, è vero, certo! Adesso possiamo andare a giocare in giardino, mammina! Sì, anzi, andiamo tutti insieme a giocare in giardino! Sì, anzi, andiamo tutti insieme a giocare in giardino! Mi piace tanto perché parla di un agnellino! È stata molto carina, Peppa! Ti ringrazio! Qualcuno di voi ha un'altra filastrocca preferita? A me piace la pastorella! E tu sapresti cantare la pastorella? Certo! E ora ve la faccio sentire! La pastorella un brutto di più non trovo i suoi agnellini! Questo invece non mi piace perché parla degli agnellini che si perdono! È troppo triste! È vero! Qualcuno conosce una filastrocca che non parli di agnellini? Io, io! Avanti, Pedro! Agnellini che... Oh, scusate! Io ne conosco una su un gatto! Oh, meraviglioso, Candy! Vuoi farcela ascoltare? Gattino, gattino, che suoni il violino! La mucca, la luna saltò! Il cane guardò e rise un po' E il cucchiaio col piatto scappò! Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna! Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo! Dibidi, dibidi, da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi, dibidi, da! Oh, bene! Questa ha decisamente più senso! Ai topolini piace correre in giro! Madame Gazella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri! Eccellente, Wendy! Per favore, cantala a tutta la classe! Un, due, tre, quattro, cinque, una volta un pesce ho pescato! Sei, sette, otto, nove, dieci, poi però l'ho liberato! Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito maleo! Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua!